Che cosa piace all'italiano medio del Giappone, secondo te? Eh, tutto, tutto. Adesso, come vedo su internet, agli italiani il Giappone piace tantissimo e infatti vogliono viaggiare tutti in Giappone recentemente, ho notato. No, allora, la prima cosa che gli italiani sono, in cui gli italiani sono ossessionati è il credo dei samurai, quindi sono fissati con i samurai. Quando loro vedono un giapponese pensano che sia un samurai, oppure che sia un maestro di arti marziali. Oppure, se è una donna... Se è una donna è una geisha. Esatto, esatto. Stereotipo proprio. E' uno stereotipo, sì. E il problema è che questo stereotipo c'è sempre, eh. Infatti, ci sono, oltre a questo, diciamo, gli italiani del Giappone, diciamo, amano i manga e gli anime, come è giusto che sia così. Però, secondo me, alcune volte in maniera troppo esagerata, troppo fanatica. Anche a me piacciono i manga e gli anime, però c'è gente che si spinge oltre, secondo me. Poi, ultimamente... E poi, comunque, per molti... Sì, sì. No, no, scusami, dimmi pure. No, no, volevo dire, ultimamente c'è la moda anche dei cosplayer, no? Sì, vabbè, quella la rispetto. Sì, sì. Ma è che molte persone sono convinte che il Giappone sia manga, samurai e sushi. Sì. Capito? Eh, a me queste tre cose mi piacciono, però il Giappone non è solo quello. Certo. E perché sennò poi si pensa che sia il paese delle meraviglie. Ogni paese ha i suoi pregi e i suoi difetti, come in Italia. In Italia è un bellissimo paese, però è pieno di, possiamo dire, è sporco, come diciamo in zone molto sporche delle città ci sono, alcuni monumenti sono rovinati. Quindi suppongo che, allora, in Giappone sicuramente è più pulita dell'Italia il Giappone, però sicuramente anche in Giappone hanno i loro quartieri, diciamo, degradati. E, no, questa cosa a me fa un po' arrabbiare degli italiani, lì dall'italiano medio. Sì, sì. Ovvero che pensano che il Giappone sia come in un anime, vai lì ed è tutto perfetto. Sì, come se in Giappone non ci fossero problemi di natura, di qualsiasi tipo, capito? Esatto, come se fossero in un paese dove è un paradiso. Sì, sì, ma la stessa cosa, guarda, che succede con l'Italia. Spesso gli stranieri che vengono in Italia magari pensano che sia il paese che gli è stato dipinto, no, sai, il paese dell'arte. Per l'amore del cielo è così, però in Italia abbiamo anche tanti problemi, come ogni paese ha i suoi problemi. Esatto. Esatto. Poi diciamo che dipende dal paese, c'è il paese che li nasconde questi problemi, che è bravo a nasconderli, è il paese che li fa notare. In Italia abbiamo, siamo famosi per molte cose brutte, però vabbè, cosa dobbiamo farci? È così. E poi c'è gente che sa nasconderle bene. Ci sono paesi che non fanno sapere niente di quello che succede, no? Sì, sì. Tipo per esempio la Corea del Nord. Ah beh. Non conosciamo quasi niente. Ah beh. Cioè sappiamo qualcosa che è brutto, però non sappiamo molte cose. È tutto tenuto nascosto. Certo. Quindi, cioè, io penso che gli italiani appunto del Giappone piacciono le solite cose, samurai, sushi e... Cos'è che avevo detto? Samurai sushi e... È geisha. Geisha, vabbè, sì. È anime. È anime, manga, sì. Però c'è molto di più, c'è una cultura anche storica. Infatti, infatti. Ci sono tantissime cose che la gente non sa. La letteratura anche. È questa cosa. Esatto, la letteratura, cioè... Molti conoscono Mishima. Sì. Però, diciamo che è quello che va un po' più di, tra virgolette, di moda. Poi non è che ne conoscono molti altri, capito? Dicono, a me del Giappone mi piace questo qua che si chiama Mishima, che era bravissimo. Kawabata. L'ultimo. Sì. Però sai, sono... Però comunque sono classici. Sono classici, ma poi soprattutto sono autori che vengono letti da appassionati di Giappone. Quindi non proprio dall'italiano medio. Diciamo un po' lo step oltre, il livello un po' più alto. Gli appassionati di Giappone che però si fermano lì. Gli appassionati che però... Esatto. Esatto. Che vedono soltanto il bello. Sì, sì. Non hanno uno sguardo critico, capito? Sì, sì, sì. Cioè, io so già che quando ritornerò in Giappone ci saranno le cose che mi piacciono e le cose che non mi piacciono. Certo. Per esempio, adesso che ho scoperto di essere celiaco, sono curioso di sapere se ci saranno tanti prodotti gluten free. Per me questa cosa un po' mi preoccupa. Ma sai, una ragazza che conosco mi ha detto che in Giappone ci sono... si trovano facilmente i prodotti senza glutine. Quindi non penso che tu debba preoccuparti. Perché volevo mangiare il ramen, ma adesso così come faccio? Mannaggia. È un problema. È un problema, sì. No, ma sicuramente ci sarà senza glutine. Speriamo, guarda. Beh, quel cibo lì lo devo mangiare. Devo mangiarlo a tutti i costi. E invece, secondo te Silvia, che cosa piace all'italiano medio del Giappone o dei giapponesi? Secondo te le stesse cose che ho detto io o c'è qualcos'altro? Allora, vabbè, sicuramente gli anime. Ecco, la prima cosa che mi viene in mente sono gli anime. Però, volendo andare un attimo oltre rispetto a quello che hai detto tu, tra gli appassionati di Giappone, quindi non per l'italiano medio, ma per gli appassionati di Giappone, sicuramente l'Ukiyo è. Quindi spesso fanno magari delle mostre sull'arte giapponese, allora appunto gli appassionati di Giappone vanno a vedere, no? Oppure la cerimonia del tè. Quante volte nelle associazioni sul Giappone fanno vedere la cerimonia del tè? Io mi chiedo, le persone che vanno a vedere queste cerimonie, chissà se poi effettivamente si informano su quell'evento oppure se vanno così giusto per fare la foto e metterla su Instagram. Sì, secondo me è più per questo. Infatti, penso anch'io. Sì, lo penso anch'io, sì, sì. Perché poi, sì, molti diciamo vanno a idolatrare queste tradizioni, sono bellissime tradizioni, però ci vedono un qualcosa di magico, capito? Non è più fare questa procedura. E viene visto come qualcosa di saggio, no? Come se una persona, ah, allora lui sa tutto quello che bisogna fare nel mondo, lui è la persona migliore del mondo perché fa la cerimonia, perché, sì. Un altro stereotipo, il giardino zen. Ah, è vero. Esatto, sì, gli italiani sono fissati con questi giardini zen. Sì, bellissimi, sia chiaro, però, cioè, la prima cosa che pensano è quello, il giardino zen e basta, insieme a sushi e il resto. Sì, diciamo che sono tutte immagini stereotipate del Giappone, che sicuramente sono bellissime, però il Giappone non è solo quello, quindi sarebbe bello se piano piano gli italiani, anche gli italiani che non studiano la lingua giapponese imparassero a conoscere la storia del Giappone, la sua letteratura, i suoi artisti, non solo quelli più famosi, ma anche gli altri. Esatto. Poi molti sono convinti, molti italiani sono convinti che i giapponesi vanno in giro con le katane. Sì, alcuni mi dicono, eh, ma loro vanno in giro, soprattutto la Yakuza, no? Che dicono, ma la Yakuza vanno in giro con le katane. Ma io ho visto dei video di persone che erano della Yakuza e dicono, no, le spade mica le portiamo in giro sempre, cioè, non è come tanto tempo fa. Certo. E quindi gli italiani sono convinti che loro vanno in giro con le spade, no? C'hanno la spada dietro la tela, la tasca, no? Poi fa ridere il fatto che, fa anche ridere il fatto che gli italiani declinino la parola katana. Non dicono le katana, ma dicono le katane, come se fosse una parola italiana. Le katane, sì. O come le geisce. Le geisce, ah, mamma mia, che orrore. Sì, 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 no, gli stereotipi sono tanti del Giappone. Anche uno degli stereotipi era quello che dicono che i giapponesi sono molto introversi e fanno fatica a trovare un partner. Questa è una cosa che dicono. Poi io non lo so perché non è che conosco sentimentalmente qualcuno. Certo. Però non saprei dire se è vero o no. Però molti italiani sono convinti che sono tutti così, no? Che hanno, che sono tutti, che hanno bisogno di un partner che sono tutti single, ma non penso. No, ma sicuramente poi dipende dalla persona. Non è che sono tutti uguali. Come noi italiani non siamo tutti uguali. Ma poi sicuramente è difficile riuscire a intraprendere una relazione che sia d'amore o d'amicizia con una persona che fa parte di una cultura così diversa dalla tua. Quindi, cioè, immagino che una persona che viene, tanto per dire, dalla Finlandia avrebbe difficoltà a intraprendere una relazione di amicizia o d'amore con un italiano, all'inizio perlomeno, perché sono due paesi molto diversi, è normale. È vero. Anzi, hanno proprio due culture totalmente diverse, come appunto il Giappone e l'Italia. E sì, poi, beh, altro cosa potremmo dire, uno stereotipo molto comune potrebbe essere quello del... Che poi magari è vero, eh, che dicono sempre che i treni in Giappone sono sempre in anticipo. Beh, questo... O arrivano sempre nel momento giusto. Dice che sia vero. Questo dicono, esatto, tutti mi dicono che è vero, quindi penso di sì, penso di sì. In Italia arrivano sempre in ritardo, quindi... O non arrivano. Quella è la verità, quindi... O non arrivano. Quindi possiamo dire che, dai, quello stereotipo è vero. Ok, comunque i giapponesi, i treni sono sempre in anticipo. Il problema è che i treni sono sempre pienissimi, ho visto, oppure... Ah, le metropolitane. Sempre pieni di gente. No, anche i treni. Anche i treni, mi sembra. Ho visto un video di un treno dove si schiacciavano dentro, perché erano troppi. Sì, sì, in Italia, se succedesse una cosa del genere... Cioè, a me è successa, in realtà, che siamo tutti dentro il treno, iniziano a tirarti pugni, schiaffi, si arrabbiano. Mamma mia. Invece in Giappone ci sono proprio quelle figure professionali che spingono le persone e loro non fanno niente. Sono pacifici. Certo. In Italia no, in Italia a me è successo spesso che qualcuno mi tirava gli schiaffi e mi diceva Ehi, tu, testa di... Sì, perché in Italia viene subito visto come... Viene subito visto come un'aggressione, no? Tu non mi devi spingere, non mi devi toccare. Esatto. Perché non capiscono che non è che io ti sto colpendo o ti sto aggredendo, è che semplicemente siamo troppi in questo treno e quindi è normale schiacciarsi l'uno con l'altro, purtroppo. Esatto. Ma poi la cosa assurda che in Italia questa cosa succede perché hanno cancellato un treno. E quindi lì c'è la persona che si arrabbia ancora di più perché dice no, devo salire io sul treno, tu devi stare giù. In Giappone invece se non li cancellano è perché sono tante persone, capito? In Italia perché i treni li cancellano. E questo, sì, lo stereotipo quello lì del Giappone è vero da questo punto di vista. L'opposto di quello italiano. Ah, poi un altro stereotipo che penso sia vero, lo chiediamo a chi ci ascolta, dicono che in Giappone quando perdi una cosa la ritrovi subito. Quindi quando perdi un oggetto o lo dimentichi da qualche parte non te lo rubano ma lo ritrovi, chissà. Magari non sarà vero al 100%, ma magari al 90%, all'80% potrebbe essere vero. Tipo il portafoglio. Esatto. Io ho visto che uno, un italiano ha provato a fare questo esperimento e ha detto che gliel'hanno rubato. Ah sì, veramente? Però non lo so, sai, magari era finto il video. Sì, vabbè, ma poi c'è da dire che secondo me sicuramente anche in Giappone ti rubano il portafoglio, ok? Non è il mondo perfetto, il paese perfetto. Però c'è da dire che forse te lo rubano di meno anche qua. Sì, no, in Italia te lo rubano in tasca. Noi poi siamo abituati alla metropolitana di Milano che è una giungla. Sì. La metropolitana è bella, il problema è la gente che ci sale. Eh certo, esatto, esatto. Però sì. Poi altri stereotipi non me ne vengono in mente adesso. No, infatti. Direi che ne abbiamo enumerati un po'. Grazie. Grazie.